Dal 1965 per un'agricoltura ragionata. Un'azienda che nasce con un grande investimento rispetto a quello che è il territorio. Un investimento tra l'altro cominciato proprio come Valtere, Dora, Mastro e Berardino insieme ai figli e qui con noi proprio c'è Paolo. Un investimento abbiamo detto in particolare sulla terra quindi che nasce nella vigna e matura per così dire all'interno della cantina. La mia famiglia tradisce molto profonde nel territorio, rappresento la quinta generazione di casa, abbiamo sempre avuto a che fare con il mondo del vino e quindi come tali abbiamo voluto investire e continuare a investire con quelli che sono i vitigni autoctoni del territorio quali Fiano, Greco, Aglianico e negli ultimi 30 anni abbiamo investito anche con un vitigno che abbiamo riscoperto tra il territorio irpino che è la Falanghina, la Coda di Volpe. e il piedi rosso. La famiglia ha voluto ripartire dalle vigne per poter gestire e parlare di vino proprio perché l'elemento essenziale del vino è l'uva e oggi come oggi Terre d'Ora, l'azienda porta appunto il nome di mia mamma Dora di Paolo, ha alle spalle 185 ettari di vigneti di proprietà che sono collocati nelle tre aree ADOCG della nostra provincia, appunto quelle dove si producono i tre giorni Gioielli, il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino e il Taurasi. E in tutte e tre le DOCG esiste un'area di produzione con un grande ombrello che è la Doc Irpigna. Perché qui c'era la famosa ferrovia del vino, quindi proprio è un territorio vocato in cui la vitivinicoltura, se ripresa a piene mani, può davvero rappresentare il futuro di una bella tradizione. Certamente, c'è da ricordare appunto che la provincia di Avellino è stata la seconda provincia italiana per produzione di vino anteguerra e nel periodo della fillossera è stato uno dei momenti più importanti di produzione, sostituendosi addirittura a territori più vocati come quelli francesi per la produzione dei grandi chateaux. Oggi come oggi di questa storia rimane traccia solo di grandi vini, di grande importanza e alcuni residui in alcune zone specifiche dove materialmente è ripartita la produzione di questi grandi prodotti. Ma di quella realtà esistono soltanto le tracce ed è rimasta questa strada ferrata che solca tutta la nostra provincia e va da Rocchetta Sant'Antonio attraversando tutta la Valle del Calore e raggiungeva Benevento e poi era lì attraverso la linea ferrata arrivava fino al nord alle grandi merropoli dove poi il vino veniva smistato verso l'estero. Ecco qui siamo appunto all'interno della barricaia in questo momento ad esempio si sta operando rispetto al Taurasi che è questo rosso meraviglioso che nasce appunto dal vitigno aglianico però al di là di questo c'è una particolarità che vediamo qui alle nostre spalle che invece riguarda un altro vino e soprattutto un'altra metodica. Certo è la produzione di un fiano di Avellino Creocampore che nasce in un'annata particolare il 1997 in un'annata in cui abbiamo avuto un anno di sovrapproduzione decidiamo di lasciare quest'uva ancora sulla pianta sovrammaturare. Quando è arrivato il serbatoio abbiamo scoperto che era un'uva che invece si prestava a una lavorazione un po' particolare e diversa al fiano e da quell'anno le uve una volta pigiate vengono immesse direttamente il mosto in botte e lasciato fermentare per un periodo molto lungo a contatto con i lieviti per circa sei mesi in ambiente anaerobico quindi in assenza di ossigeno. Questo per favorire una fermentazione lenta continua e in questo modo abbiamo la formazione di profumi molto particolari con degli aromi specifici totalmente diversi da quelli che sono caratteristici del fiano tradizionale proprio perché proviene dalla sovrammaturazione ricorda di partenza i fiori gialli che è ovviamente una caratteristica del fiano ma immediatamente aggredisce l'olfatto per la sua grande ricchezza di miele. In più di fondo ritroviamo sempre l'accompagnamento di questo gusto di lievito quindi la famosa Pierra Focaia, il gusto di Pierra Focaia che è molto delicato, molto tene e molto gradevole al palato che dà delle sensazioni importanti. È un vino da abbinare con tutto ciò che è agrodolce perché ritrova degli abbinamenti unici quasi impossibili molte volte. Sente dal punto di vista di manovre hanno le ruote, quelle botti o meglio sono adagiate appunto su dei sostegni che quindi prevedono la possibile rotazione. Esattamente perché ogni tanto bisogna rimuovere la massa per mettere in movimento i lieviti nell'ammosto e far sì che i lieviti ritornino in lavorazione per evitare che si raggino sul fondo. Completamente circondata dai vigneti la provincia di Avellino ha comunque tantissime altre ricchezze che si legano ad una storia che passa attraverso testimonianze, castelli, abbazie. Questo per dire cosa? Che il territorio insieme al vino si può raccontare e lo fa molto bene anche perché c'è uno strumento molto importante, attivo da alcuni anni appunto in Italia che sta riscuotendo sempre più successo ed è il movimento del turismo del vino. E questa è anche l'occasione per incontrare Daniela Mastro Berardino che è appunto presidente del movimento del turismo del vino, tra l'altro all'indomani di Cantini Aperte quindi uno degli emblemi proprio che cerca di far conoscere il mondo del vino, della vigna ma di tutto il territorio a quelli che sono diciamo gli appassionati ma anche un pubblico di conoscitori che può diventare appassionato una volta che conosce. Infatti spero che soprattutto Cantini Aperte e Cantini Aperte tutti i giorni dell'anno quasi mi verrebbe da dire sia l'occasione per avvicinare al vino attraverso i territori del vino chi il vino lo guarda un po' da lontano. Parlare al Wain Lover è importante ma è altrettanto fondamentale riuscire ad avvicinare al vino chi comunque è interessato alle bellezze del territorio, alle bellezze non solo paesaggistiche architettoniche ma perché no anche gastronomiche e il vino è veramente un grosso attrattore davvero come quando è cominciata la storia del movimento turismo del vino la cantina è sempre di più presidio sul territorio, ha la capacità di poter mettere in sinergia tutte le risorse dall'artigianato, dai castelli. Io spesso parlo, visto che siamo in Irpinia che esiste una campagna minore, in questo caso una grande Irpinia in questo contesto geografico molto vario e differenziato ma che andrebbe tutto scoperto e una delle chiavi di accesso non può che essere il vino prodotto che da sempre è diventato l'emblema di questa terra in giro per il mondo. Per cui riscopriamo che il vino è bello da averlo a tavola e soprattutto pensiamo come produttori sempre più a che i nostri vini abbiano un'ottima bevibilità e non siano solo dei grandi cavalli di razza per le degustazioni perché il vino è socialità e questo è un valore che forse è bene che riscopriamo soprattutto in tempi non proprio brillanti. Ecco, noi non ci siamo messi qui a caso ma perché siamo proprio vicini a questo bel premio che tra l'altro è recentissimo perché è stato dato sulla scena del Vinitali 2013 e praticamente è la dimostrazione attraverso cui Terredora reinterpreta in chiave moderna un patrimonio di cultura e tradizioni senza paragoni per cui questo è il premio internazionale di Vinitali 2013 un riconoscimento che avete come famiglia voluto dedicare proprio all'Irpinia. Beh, decisamente è un riconoscimento per noi importante anche nel momento in cui è maturato è maturato a qualche mese dalla scomparsa di Lucio che è il fratello di Paolo e mio che insieme a papà ha rappresentato il quarto moschettiere dell'avventura cominciata circa vent'anni fa di Terredora per cui evidentemente questo premio, mi consentite di dire, ha per noi veramente oltre che una grande valenza simbolica anche una valenza affettiva ed è soprattutto l'impegno non solo verso la nostra terra di cui Lucio è stato evidentemente uno dei grandi ambasciatori ma verso proprio la sua memoria che attraverso questa azienda possa continuare a crescere, a far diventare l'Irpinia e i vini irpini sempre più importanti in giro per il mondo. Ma a questo punto, visto che l'importanza ce l'ha alla vigna andiamo all'interno dei vigneti a scoprire direttamente la provenienza appunto di questi vini che stiamo saggiando. 5.000 piante di ulivo a corollario di 185 ettari di vigneto che praticamente sono sparsi nelle aree vocate come già abbiamo raccontato e cominciamo allora con il vitigno più rappresentativo in fondo di queste terre anche perché ne porta il nome il fiano di Avellino che prende il nome proprio da questo antico vitigno campano che i lantini chiamavano viti sapiana perché le api parevano molto ghiotte della dolcezza di queste uve e questa praticamente è una delle vigne che caratterizza appunto la produzione del fiano di Avellino. Sì, siamo appunto nel vigneto Terre di Dora dedicato a mia mamma Dora evoluto da lei fortemente nel lontano 1978 quando è nata questa azienda agricola appunto e il fiano ha una storia antichissima come lei sottolineava è l'unico vitigno latino esistente sulla penisola e ha tutta una serie di particolarità prima fra tutte soffrire di aborti fiorali per cui ha una bellissima cacciata di grappoli in fase iniziale di germogliamento e a fine fioritura invece abbiamo dei grappoli spargoli con tanti acinelli e abbiamo una bellissima maturazione con caratteristiche aromatiche uniche di questo vitigno che lo rendono molto simile al piccolit ma la particolarità di questo vitigno è anche un'altra non solo ha una grande e bella vigoria ma raccoglie quelle che sono le tipicità dei profumi ambientali in modo unico tant'è che trasferisce al vino delle caratteristiche particolarissime parlando del bouquet ricorda i fiori gialli potete guardare intorno quello che è l'ambiente che circonda queste vigne meravigliose quanti fiori gialli sono presenti naturalmente nel prato e oltre a questo discorso ricordiamo la presenza di profumi agrumati la presenza di pesche profumi di albicocca e poi la chiusura finale in un qualcosa che ricorda l'erro gusto la mandorla mare e la nocciola tostata altri due elementi classici tipici del nostro territorio erpino che in questo momento sono già in fase avanzata di vegetazione ricordiamo che il nocciolo è la cultura classica e non a caso il nome scientifico della nocciola è Corilu Savellana altro elemento tipico di questo territorio allora dicevamo lassù il cucuzzolo a oltre 700 metri da cui siamo partiti che è Monte Fusco ma adesso l'andiamo a raggiungere più direttamente perché il prossimo vigneto è proprio lì c'è un cumulo di nuvole vediamo quale sarà il tempo che ci accoglie e a questo punto abbiamo raggiunto un'altra delle vigne di Terre d'Ora in particolare la loggia della Serra che recita un'altra delle eccellenze di questo territorio si tratta del greco di Tufo che come dice il suo nome fu introdotto qui dalle antiche popolazioni greche stiamo parlando di un bianco secco dal gusto aristocratico ma per quel che riguarda l'aspetto di degustazione ne parleremo dopo perché adesso mentre tra l'altro sono in corso alcune operazioni importanti dal punto di vista culturale e anche di questo poi dettaglieremo tra un po' io volevo capire come è stato preservato da voi questo vitigno uno dei più importanti del territorio irpino e in particolare partendo proprio da questo vigneto noi abbiamo cercato di recuperare un po' le radici storiche di questo vitigno andando a fare un lavoro di ricerca di selezione clonale partendo da quello che nel territorio era rimasto come presenza del vitigno consideri che nel 1978 in provincia di Avellino si producevano all'incirca circa 800.000 bottiglie di vino complessivamente oggi nel 2013 la produzione è diventata importantissima perché parliamo complessi di circa 7 milioni di bottiglie se non valo il lato una superficie viticola che si è di molto espansa ma all'epoca non esistevano più le vigne per cui c'era il problema della sopravvivenza e la mia famiglia si pose il problema di dover investire in agricoltura per poter sopravvivere il problema era anche la non presenza più di vigneti e l'incapacità di trovare queste varietà a livello vivaistico quindi partimmo dall'andare alla ricerca presso quei pochi coltivatori che erano rimasti della realtà vitivinicola che esisteva in provincia di Avellino e nell'area soprattutto del Greco di Tufo ritroviamo circa 111 presunti cloni di Greco dai quali poi abbiamo riprodotto il materiale che abbiamo raccolto in questo campo di selezione massale che è alle mie spalle e che è un po' la storia genetica di tutto il Greco di Tufo della nostra provincia e come potete vedere alle mie spalle esiste anche una bellissima betaglia che abbiamo conservato volutamente proprio perché caratterizza questo prodotto con una tipicità unica regalando un gusto di resina particolare a questo prodotto che è molto gradito al consumatore soprattutto anche perché ricordiamoci siamo in alta collina e siamo a circa 630 metri sul livello del mare questo è uno dei vigneti più alti della provincia di Avellino a parte i ritardi della stagione inclemente di cui abbiamo già parlato in questo momento che cosa si sta facendo sempre nel rispetto del territorio della vigna e del prodotto finale? sicuramente l'aspetto nutrizionale è un aspetto fondamentale per il ciclo biologico della pianta e soprattutto nei terreni di collina diventa un elemento ancora più importante perché la collina è soprattutto fatta da argille le argille come tutti sanno trattengono tanta acqua e pochi elementi nutritivi perché soprattutto le sostanze azurrade le lasciano purtroppo andare via velocemente sono ricche di potassia e hanno grandi quantità di magnesio presenti all'interno spesso non scambiabili come è il caso di quest'area e di conseguenza non mettono sempre a disposizione la pianta gli elementi nutritivi al momento giusto per cui ogni tanto è necessario dare un là per poter favorire il metabolismo e lo sviluppo della pianta con un piccolo aiuto nella fase iniziale della crescita come vedete anche quest'anno è un'annata molto particolare in genere negli altri anni avevamo temperature intorno ai 30-35 gradi oggi vedete siamo passati da Samani che avevamo 31-32 gradi ai 18-20 gradi di questo momento con pioggia promettente e stiamo a fare le corse a fare i trattamenti per rincorrere e bloccare tutti gli attacchi però non spolici e antioidici che purtroppo si rincorrono quindi bisogna proteggersi da entrambi i danni ma questi sono dei problemi seri che vanno affrontati senza dover appunto dimenticare gli aspetti nutrizionali che sono altrettanto importanti e seri perché quando ci sono questi sbalzi termici così importanti l'altro elemento che comincia a svilupparsi è la carenza di magnesio che non arriva più velocemente all'achide e quindi possono venire fuori problemi di dissecamento dell'achide e quindi in questa fase è importante anche dare la sussistenza e quel supporto ulteriore alla pianta che la metta nella condizione di sopperire a questa carenza iniziale in modo tale da consentire all'apparato radicale di procurarsi dal terreno le ulteriori necessità che servono per lo sviluppo quando il tempo fa le bizze le bizze arrivano da tutte le parti e la pianta non ha tanti elementi su cui potersi rivalere per proteggersi per cui se l'uomo gli dà una mano ogni tanto non fa male con questo non è che stiamo abbandonando le metodiche naturali di coltivazione della vigna ma stiamo solamente cercando di tutelare una miglior crescita una miglior sussistenza di quella che è la viticoltura in un'area difficile come quella di collina che ha tutte le difficoltà di questo mondo oggi come oggi il mercato offre di tutto e di più ma sicuramente chi opera nel settore fa bene ad affidarsi all'azienda che abbiano esperienza maturata nel settore e il risultato poi alla fine lo si vede il risultato fa la differenza con i fatti l'azienda che ha un nome molto chiaro e presente che è la Cifo ci sta seguendo da anni nella nostra crescita e nella nostra pazia tanto è vero che abbiamo soffrito della collaborazione anche del loro laboratorio di analisi e quasi tutti gli anni mandiamo in analisi tutti a 185 ettari di vigna questo perché è fondamentale conoscere quello che è il cambiamento di cosa accade nei terreni per poter creare le condizioni di sviluppo indispensabili alla vita della pianta da un lato e dall'altro capire come poter migliorare la vita delle piante soprattutto questo è il Monte Tauro che domina questi vigneti coltivati a Daglianico da cui nasce il Taurasi ma non c'è collegamento tra il nome della montagna e questo splendido vino irpino perché le origini sono diverse Taurasi corrisponderebbe all'antica Taurasi a un piccolo borgo vinicolo che i romani fecero loro dopo aver sconfitto gli irpini altri invece sostengono che il nome sia di origine Osco Sabelli che farebbe riferimento al toro mitico animale condottiero della tribù dei Taurasini sta di fatto che il Taurasi prodotto in 17 comuni dell'Avellinese appunto questa splendida DOCG che rappresenta proprio una parte di questo territorio ed è appunto uno dei vigneti Terre d'Ora che andiamo a scoprire anche perché dopo aver parlato di vitigni a bacca bianca in questo caso la bacca è nera anzi siamo in un momento molto importante proprio per la vita della vite certamente siamo all'inizio della fioritura come si può vedere l'aglianico è una delle varietà che parte con una vegetazione abbastanza tardiva e finisce con una maturazione che è terza decada di ottobre prima decada di novembre infatti questo vigneto che porta il nome di fatica contadina legato molto soprattutto alla storia della realtà del lavoro quindi alla fatica che si fa per lavorare queste zone siamo in un'area con pendenze che arriviamo fino al 30% materialmente dà sempre grossi problemi nella lavorazione siamo su terreni prettamente di natura argillosa una grossa frazione limosa quindi sotto l'attività delle acque diventa un terreno molto plastico e difficile da lavorare e la vendemme diventa un momento difficilissimo da gestire proprio per la tarda età nella quale matura l'uva perché in genere in quelle occasioni nelle nostre zone il tempo si rompe qualche anno addirittura abbiamo vendemmiato con la neve immaginate lo spettacolo di vedere tutto questo paesaggio tutto imbiancato e i grappoli appesi alle piante con il fogliame tutto rosso è uno spettacolo unico, meraviglioso, brillante è proprio vero tra l'altro per quel che riguarda il colore proprio il Taurasi rappresenta questo mondo rosso granata proprio quando tra l'altro ha l'invecchiamento giusto dicevamo Taurasi, poi naturalmente l'alianico può anche diventare un vino insomma che tal quale si chiama però rappresenta comunque questo vitigno le cui origini sono ellenicus sarebbe questa la radice? Certamente, c'è sempre lo zambino di chi l'ha voluto diffondere portandolo fino alle nostre zone e sicuramente in questo la cultura greca ha avuto il suo grande discorso perché i greci sono stati sicuramente come i fenici i popoli più curiosi che sono venuti a colonizzare le nostre aree Però in questo momento si sta lavorando anche in questo vigneto In questa fase stiamo cercando di gestire l'operazione del contenimento delle erbe La realtà delle lavorazioni attuali è quella di intanto intervenire con una modestissima consumazione di supporto con un prodotto ternario a base di azoto, fosforo, potassio che quest'anno stiamo dando proprio in virtù del fatto che non siamo riusciti a gestire la nostra solita consumazione organica che facciamo tutti gli anni perché l'incapacità di poter intervenire nei terreni è stata proprio unica nel genere considerate che faccio questo lavoro da 33 anni e non ricordo di aver mai subito una stagione così intensa di piogge e dall'altro lato invece ripare il terreno per cominciare a interrare la gotica erbosa e per rimettere in moto quel ciclo della fertilità che ha anche bisogno di avere quella frazione di ossigeno per rimettere in moto tutti quelli che sono i processi di vita dei microrganismi del terreno Tutto ciò ha la sua funzione anche perché le argille se non hanno aria non hanno microrganismi e non continuano a muoversi sono soggette sempre a eventuali poi logorie e logorie in un'argilla significano smottamenti Sicuramente bisogna intervenire in questa fase a supporto di quella che è la parte di avviamento dei processi fisiologici della pianta per cui un supporto iniziale aiuta la fotosintesi clorofiliana a lavorare molto meglio e migliorandone anche la produzione futura perché non dimentichiamo in questa fase è vero che abbiamo la costituzione della produzione dell'anno ma si sta costruendo quella che è la produzione del prossimo anno A questo punto abbiamo raccontato il territorio da un punto di vista agricolo, vitivinicolo però l'Irpinia non è solo questo e allora andiamo a cercare di capire quali sono le attrattive che questo territorio di questa regione mette sul tappeto Cifo dal 1965 per un'agricoltura ragionata E nel nostro viaggio nella verde Irpinia un'altra tappa l'ultima di questo percorso Melito Irpino che sia verde lo vedete già da tutti questi prodotti che arrivano direttamente dall'orto che sia completa di un'enogastronomia che davvero ha tante eccellenze lo vedete dai prodotti degli artigiani del territorio però diciamo dove siamo io ho detto la località Melito Irpino però siamo ospiti dell'antica trattoria di Pietro lo leggo qui direttamente sul Grenviule e ad ospitarci Crescenzo che ci racconterà anche tutte le prelibatezze che ci ha messo in questa tavola ma anche la moglie Teresa la figlia Anita poi abbiamo con noi anche Carmen e Carmine e poi abbiamo con noi soprattutto tutte queste belle cose perché è un territorio veramente dove insomma la storia, le radici sono diventati un artigianato fiorente della gastronomia siamo all'avanguardia sul territorio e sulla zona della Campania i nostri terreni sono ricchi i giorni si stanno avvicinando questa è una ricchezza nel futuro le verdure noi siamo a chilometro zero infatti siete andati proprio sotto l'acqua a raccoglierle direttamente esattamente ancora insomma praticamente abbiamo in questo cesto ci sono le verdure delle zucchine i fiori con questo noi facciamo una pasta detto i cicatielli con una semola dei nostri cambi sempre di semola di cappelli di grano cappelli che abbiamo iniziato a mettere su un paio d'anni qui abbiamo la scarola abbiamo due tipi la liscia e la riccia io non ho capito poi perché parla Crescenzo e suggerisce Teresa e questo è bellissimo non so se voi lo sentite ma io ho praticamente il ritorno dell'eco ma va bene così poi abbiamo quella grande frittata che abbiamo portato dove ci sono che sa un profumo dove c'è il cerfoglio dove c'è un po' di papà e un po' di borlaggine ancora quindi io pensavo che fosse per bellezza come addobbo floreale invece sono praticamente erbe e fiori spontanee che diventano frittatuna poi in questo caso noi abbiamo i pomodorini del nostro territorio abbiamo un'azienda qui di Flumeri Anzalone un'azienda agricola abbiamo la grande pasta Baronia dove questi grani sono delle zone del sud incominciando dalla Campania, Basilicata e Puglia e l'azienda De Matteis si sta mettendo tutto l'amore per far sì che questo territorio può crescere con questi prodotti che sono all'avanguardia il miele questo è il nipote di un signore di Melito che ha preso tutta l'azienda del nonno e automaticamente da questo grande prodotto l'azienda sta a Venticano ma le sue radici sono di Melito Irpino a proposito però di nonno anche questa non per nulla è antica trattoria perché è antica davvero il nostro paese è un paese chiuso ma nacque perché nel periodo del fascismo c'era questa legge di Mussolini che dava un pasto caldo alle donne in attesa e allora automaticamente ci venne questa idea di mettere su quest'osteria e far sì che 10, 15, 20 pasto caldo al giorno potevano soddisfare l'esigenza dei cittadini poi col terremoto 62 siamo arrivati qui in questa collina di Melito ai confini di Ariano con il paese nuovo e ci siamo tenuti ancora questa nostra osteria che l'abbiamo giustamente trasformata in un ristorante tenendoci sempre la trattoria nel cuore trattoria nel cuore però insomma è anche in tavola poi perché in effetti i prodotti sono quelli autoctoni anzi insomma veramente quelli originali la zona e tra l'altro questa è una zona molto ricca di salumi cosa c'è la soppressata sì la soppressata le salsicce abbiamo il prosciutificio Ciarcia che ci soddisfa molto bene e poi abbiamo un'azienda qui del passo la famiglia venuta l'azienda Eclanum che ci dà grande soddisfazione i figli stanno collaborando con i genitori e far sì che questi prodotti continuino a crescere sul territorio e essere conosciuti fuori è il maiale nero casertano abbiamo della salsiccia che qui c'è un centro è sulla zona del Benimentano Cosdapi che è molto interessante la salsiccia sannita perché è un centro che ha fatto sì di poter mantenere le caratteristiche di tutti questi animali che sul territorio stavano scomparendo dall'agnello alla di cauda e il maiale nero che stava anche finendo nel nulla è molto piena non ci vedo molto bene ma è caciocavallo caciocavallo podolico e poi quel formaggio è un carmaciano di due anni che vuol dire carmaciano? è la zona tra Rocca San Velice Friggendo Guardi dei Lombardi dove ci sono le lati caude queste lati caude ci danno questo formaggio particolare dove a Rocca San Velice ci sono le mefite un territorio dove ci sono questa espressione solfurie dal terreno e le erbe hanno automaticamente questi profumi acquistano e il latte è diverso ecco rispetto proprio a questa unicità e torno un attimo al mondo dei vini in effetti abbiamo raccontato il greco di Tufo è anche lì insomma il terreno proprio c'entra davvero abbiamo parlato addirittura di questi abeti che rimandano le loro resine abbiamo parlato davvero di profumazioni anche di nocciole insomma che praticamente ritroviamo un po' nelle varie produzioni e che poi riproduciamo in qualche modo nella naturalità dei vini certamente lo stesso dicasi anche per quanto accade per i rossi perché nei rossi ritroviamo i sentori di Libes di Marasca di Spezialdo come il pepe nero troviamo la confettura di prugna la liquirizia e sono tutte realtà comunque presenti sul nostro territorio la ciliegia non a caso qui avete le nostre ciliegie tipiche del territorio è un'area molto vasta molto bella l'irpinia è un nome ha un nome bellissimo è un giacimento di grandi ricchezze culturali ambientali e soprattutto di ricchezze umane che meritano di essere scoperte l'unica cosa che questo territorio si è conservato ancora bene perché ha la fortuna di essere chiuso nell'Appennino siamo fuori dalle lotte della speculazione è meraviglioso perché alla fine insomma è un itinerario che è basato non tanto sulla geografia ma proprio su queste cartoline ognuna è profumata a suo modo come questo che ci è arrivato questa cosa particolare questa qua è una menta pulieggio noi in gergo nostro la chiamiamo pulieio facciamo un pesto tra questa menta particolare con l'aglio e poi aggiungiamo il pomodorino il classico pomodorino che poi stasera andiamo a condire i cicatelli che è il nostro piatto all'avanguardia sul territorio Teresa e Anita allora voi siete in cucina e preparate tutte queste paste immagino sì sì perché io ho cominciato qua dopo sposata c'era la mamma quindi diciamo che ho conosciuto la tradizione l'ho alleggerita un poco però ho cercato di conservare tutti i sapori di una volta i sapori i profumi perché è un peccato perderli veramente è un peccato perderli e lei poi cercherà di dare anche all'attualità però gli ho consigliato gli ho consigliato di lasciare sempre i nostri sapori perché non hanno sono uguali allora abbiamo una bella responsabilità Anita tra le mani non tanto sulle spalle sì in effetti è un annetto che io mi sono dedicata un po' più alla cucina proprio per la voglia di imparare più che altro proprio come donna per imparare delle cose che sapeva fare mia nonna e volevo poter insegnare ai miei figli un domani vorrei è difficile è difficilissimo perché è un bagaglio immenso e mi scontro anche con una concorrenza molto spietata e molto differente dalla nostra cultura quindi la via di mezzo è quella che io vorrei riuscire a trovare essere aggiornata ma rispettare le mie tradizioni e soprattutto continuare le mie tradizionali cotture perché la materia prima va rispettata parole sante quelle di Anita che prendiamo come ultimo messaggio però ci aggiungiamo qualcosa perché c'è anche un'altra bella tradizione quella dei mesali praticamente il mesale è la tovaglia vero la tovaglia però è nata pure un'associazione di transumanza gastronomica bellissimo in Irpinia e siamo 13 di noi teniamo una sola cosa i prodotti irpini il nostro territorio a tavola l'espressione di tutti i nostri genitori che ci hanno dato qualcosa in queste trattorie nostre lungo un territorio che cambia da collina a collina e il percorso è sempre il piacere della tavola con le nostre signore che stanno sempre vicine perché la cucina è così le cantine molte volte ci esprimono bene incominciando da Terredore e tante altre ma noi abbiamo Terredore che è una famiglia storica piacevole ci ha fatto crescere quando noi non si capiva niente di vino e lo dobbiamo dire con i piedi per terra con i piedi per terra continua e ritorniamo al nord parlando di miele però a questo punto a che brindiamo? io direi allora all'Irpinia all'Irpinia mi sembra giusto questo è il nostro brindisi all'Irpinia e noi ci rivediamo tra poco in Emilia cin cin grazie mille grazie mille